Alla mia spalla vedete tecnologie d'altri tempi, ma all'epoca questa era la Rocca, la Rocca di Soncino, dove mi sto trovando in questo momento, era un esempio importante di tecnologia, difesa, tecnologia militare, difesa di quelli che potevano essere gli assalti dai nemici. Oggi la tecnologia si è ancora più evoluta da quell'epoca, molto più evoluta e siamo nell'era della comunicazione digitale. Io mi occupo proprio di quello, comunicazione digitale, tutti gli strumenti che servono e si vengono utilizzati per comunicare sul mondo della rete, sul mondo della televisione, sul mondo del cinema, insomma in qualunque parte ci sia bisogno di produrre contenuti. È un mestiere complesso, molto complesso, perché a differenza di quello che potrebbe sembrare ci vuole una serie enorme di competenze, da quello che può essere la scrittura di un redazionale, da quello punto deve essere di una produzione audio-video, dei vari formati 2K, 4K, della rete, del live streaming, trasmettere in rete, i social, Facebook, YouTube, potrei andare avanti per ore, ma non è il caso. Nei ultimi 4 anni ho lavorato per una multinazionale di elettronica di consumo cinese della Repubblica Popolare Cinese, che ha la sede anche qua in Italia. Per loro ho svolto un compito abbastanza complesso, perché quello che mi viene richiesto non era soltanto di gestire eventualmente delle agenzie, perché normalmente è questo che viene fatto, ma di produrre direttamente, quindi di fare internamente buona parte di quello che normalmente viene dato esternamente a agenzie o comunque a persone in grado di fare ciò. In questi 4 anni ho prodotto oltre 200 video per loro, ho gestito tutta la parte media, tutta la parte di comunicazione, tutta la parte di sponsorizzazione, di organizzazione di eventi e non ultimo anche la parte pubblicitaria, quindi quello che poteva essere la pubblicità negli stadi e via discorrendo. La produzione interna è stata decisamente un lavoro impegnativo, perché significava documentare tutta la vita dell'azienda i prodotti. Sono stato 10 giorni in Cina a riprendere all'interno le loro fabbriche, i loro uffici, parlare con i loro dirigenti, a fare una testimonianza di quello che è il mondo della Cina, poco conosciuto qua in Italia. Forse le difficoltà più grosse sono state proprio culturali all'inizio, perché non è facile capirsi, anche se magari si parla l'inglese o si cerca di interagire nel milione dei modi. Sono differenze culturali che necessitano un certo tempo di apprendimento e ho fatto questo lavoro di apprendimento per cercare di avvicinarmi il più possibile alle loro esigenze, alle esigenze del cliente. Nei tempi più andati, visto che ho un po' di annetti, mi sono occupato di quello che è stato il mondo fioristico, sempre marketing, comunicazione, digitale, tutte queste belle cose, producendo una serie di venti. La prima televisione all'interno di un salone, parlo di Smart Channel, oppure di BTS. BTS era la più grande fiera del broadcasting in cui avevamo riprodotto un vero studio televisivo dove trasmettevamo, c'era DN Kronos, c'era RTL con cui ho sempre collaborato, Panasonic, HP, insomma tutti i marchi dell'elettronica, sia professionale che no. È stata una bella esperienza, perché il visitatore poteva entrare in questo evento che mi ero inventato, passeggiare all'interno una riproduzione di una vera televisione con sette giornalisti, con tutto quello che succedeva, una vera televisione, così aveva un'idea esattamente di che cosa avrebbero potuto comprare per i loro studi e infine la sera, se andavano a casa alle 8, vedevano sul canale Epson, che adesso non c'è più, ma Epson aveva un canale satellitare televisivo dove trasmetteva, poteva vedere il risultato di questo lavoro. Tutta una serie di idee che mi ha portato poi a realizzare un grosso evento Expo, insieme sempre a RTL, che ne ha guidato, ne ha condotto la serata, dove? All'interno del padiglione business cinese, dove erano rappresentate le più importanti società statali cinesi, quindi le navi, trasporti, treni, aerei, insomma di tutto di più. All'interno abbiamo fatto una serata, abbiamo inventato tutte le autorità, erano avuto un sindaco, sono venuti l'ambasciato, il console cinese, i dirigenti Chang'on che hanno spiegato il progetto, l'Inter, perché c'era area di sponsorizzazione dell'Inter all'epoca, poi purtroppo non è andata in porto, ma insomma tante belle cose, una bella, bella serata. Altro evento che mi è piaciuto particolarmente seguire come sponsor, come sponsor ovviamente non io, ma la società cinese sponsor, però io ho seguito tutta la parte organizzativa e anche poi di documentazione, perché tutti questi lavori sono fatti per documentare, per documentare poi quello che è il risultato, documentando attraverso i video redazionali e tutto quello che serve. In questo caso è stato un grosso evento al Castello Sforzesso di Milano, dove la fondazione Monzino ha creato la scenografia di un grande violino all'interno di un ambiente al secondo piano del castello, il visitatore poteva entrare e camminare in questo spazio e assistere ai lavori degli utai che producevano dei violini, insegnavano come si produce anche uno strumento antico. La sera c'erano concerti, un successo di pubblico enorme che invece di durare sei mesi, questo evento è durato un anno e mezzo. Insieme a me c'era anche la GVC come sponsor, infatti la GVC mi ha fornito tutta la tecnologia, io sono la loro opinion leader, quindi GVC che è un grosso produttore giapponese di tecnologia per la videoproduzione, mi ha dato veramente degli ottimi strumenti con cui ho anche prodotto live streaming, perché poi questo mondo è fatto di live streaming, di social, di YouTube, di Facebook, un lavoro enorme. Questo in breve è quello che io faccio, potrei raccontare ancora molto, ormai diventerei noioso. Vi saluto da Suncino, da questa bella rocca, anche perché ormai la luce ce ne sta andando.